ciao a tutti oggi vi suggerisco una ricetta davvero golosa senza aggiunta di zucchero allora cosa dobbiamo fare prima di tutto mettiamo le farine sto utilizzando farina un doppio zero farina integrale e farina di cesi una parte mettiamo tutta l'ovetta e cominciate a lavorare 15 secondi velocità 5 se volete potete ridurre l'ovetta in pezzi più piccoli a velocità 10 naturalmente mettiamo la buccia grattugiata del limone tutto l'olio di semi il lievito mezza bustina un pizzico di sale e una mela a pezzi così azionate il bimbi a velocità 5 otterrete questo impasto adesso lo trasferiamo nel piano lavoro adesso aiutandovi con un mattarello stendiamo la nostra frolla piuttosto sottile perché sento che c'è il lievito va benissimo ritagliamo i biscotti con le formine a piacere io utilizzerò queste sono molto carine e faccio così li adagio in una teglia foderato da carta forno inforniamo a 180 gradi per circa 15 minuti a dopo per il risultato finale